ragazzi possiamo entrare allora ci troviamo qua con i ragazzi della proloco di grignasco cosa fate di bello che il grignasco rappresenta la nostra... niente lo facevano tutti ho detto perché noi non dobbiamo farlo giustamente per una par condicio generale oltre di birra abbiamo dei panini panini abbiamo dei primi dei secondi vabbè vedete a grignasco cioè nel senso dell'alpano grazie ciao siamo alla proloco di gemme il primo anno che siamo tutti qua siamo all'esordio all'alpano proloco di gemme e esordio all'alpano come sta andando? ma si bene bene con le mani non ce la montiamo soltanto ho visto che fate anche traspirazioni qua è il sangue di gemme è un modo per mascarare di termine però è il sangue di gemme la grappa di rassa è la numero uno andiamo a parlare con i ragazzi della grappa di rassa sai che mi verrebbe la domanda spontanea? quale? ma che rassa di cose fanno? e mo ce lo chiediamo andiamo rassa una caratteristica che ormai è riconosciuta ai più perché qui tutto quello che uno immagina abbinato alla grappa c'è 45 tipi di grappa 45 ce ne sono particolari uno può essere l'amaro di sorba nella nostra Val Sorba un posto da timo e genziana cosa particolare quest'anno abbiamo fatto per rassa in rosa la grappa alla rosa perché la possibilità è quella di degustare qui ma poi anche acquistare perché fate le bozzine vere e proprie alla grande insomma voi volete una grappa vera vorrei dire una grappa di rassa eccola grazie mille siamo dalla paloma di Valsesia presenti da sei anni all'Alpà offriamo prodotti tipici della Valsesia e anche classici italiani volete stufato d'asino casereccia ragù di cervo le grigliate classiche con patate tutti i tipi di miace ovviamente e poi le nostre cameriere se li mettiamo su vado che si raffreddano grazie ciao prologo di Ciliasco eccoci presenti cosa succede da queste parti noi offriamo degli hamburger fatti con carne e fassona 100% piemontese e toma Valsesia mi raccomando venite a Ciliasco per dominare la... cosa succede qui nel stand all'interno del parco d'Aldo dello Sciclub a mea? dalle miace agli hamburger e alla birra tedesca miace hamburger e birra tedesca è una specie di proposta internazionale certamente sì sono qui alla prologo di Ciamasco guardate quanti sono mani su mani su mani su mani chi è il portavoce? chi è? il portavoce qua benissimo dimmi tutto troviamo le miace valsesiane farcite con toma valsesiana gorgonzola da bere birra sangria speciale bianca poi abbiamo i peperoni zucchine valsesiane il trenzo con i baffi una cena con i baffi benissimo porto a Cuarona seguimi vedi che bello la vista qui di Cuarona in realtà insomma abbiamo una caratteristica che è quella di avere le baite che sono più o meno tutte uguali però voi cosa proponete qui? noi proponiamo la sangria buonissima c'è un consiglio sindaco, vice sindaco tutti quanti abbiamo il livello è alto è altissimo la seconda proposta che era? il babbio burger come si chiama? come si chiama? babbio burger dai lo direi come si fa lancialo su miscela pistolata di olio e vino ti sei perso il pezzo forte Perché va bene il Babio Gurga, va bene tutto. Noi facciamo l'alpa solo per uno scopo, per il torneo di Frecciano. Adesso ne tira una e non becca il bersaglio. Tipico il foco al centro, occhio, vai, vai al centro, riproviamo, riproviamo. Ciao, grazie per te. Bravi! Robi ti seguo. Ciao, ciao, ciao. Conciamo. E' polenta con formaggio, il tipico piatto piemontese, cinghiazza. Poi abbiamo un rai della griglia, Oliviero. Ciao, Oliviero. Ciao, fatti un cinque. Ciao. 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 Sta affettando molto il raggio degli antipasti. Ciao. Ciao a tutti. Vai, vai, non guardarmi, tu continua che sennò ti fai del male. Noi abbiamo due personaggi di rilievo a livello fisico che ci possono portare tanta gente. Tony. Tony, nove, grazie. Quell'altro già con la birra, perché quella birra che vedi là... Quella birra, no. Cin, cin, bella alpa, la giù. Cin, cin, cos'è che ci prepari a noi allora? Ma no, io sono la cassa stessa, sono passata di ruolo e quindi a chi chiedo? E mi hanno messo la cassa. Roby, cos'è che ci prepari, Roby? Tutto di tutto. Come volete. Tutto di tutto. Chiudiamo così. Allora, tre, due, uno, volare! Benissimo!